La nostra è una grande azienda che opera nel mondo dei caschi. Just One si è unita al nostro gruppo nel 2010. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare insieme nella MXGP per poi entrare e svilupparci nel mondo della velocità. Con Just One vogliamo garantire la sicurezza in un determinato tipo di sport e quindi vorremmo sempre di più espandere il nostro raggio d'azione. Questa del CIV è un'attività particolare che è nata in collaborazione con la federazione proprio per portare a questi giovani ragazzi della Premoto 3 un livello di sicurezza e di consapevolezza più elevato e il fatto che gli forniamo anche il primo prodotto gratuitamente è anche di supporto perché questi ragazzi devono affrontare a proprie spese un campionato proprio deutico. Ci fa piacere e anche onore far parte del team della federazione per supportare questi giovani a contenere i costi. Comincia tutta la prima!